In Italia oltre 9.000 persone soffrono di emofilia, malattia genetica rara, che colpisce soprattutto i maschi, mentre le donne sono soltanto portatrici. L'emofilia è dovuta alla mancanza di due proteine che regolano la coagulazione del sangue, di conseguenza chi ne è affetto è soggetto ad emorragie interne ed esterne. Questa condizione limita enormemente la vita, le attività e i movimenti di chi soffre di emofilia, tenendo conto che la malattia colpisce, sin dalla nascita, una vita quindi da vivere come se si fossi chiusi in una gabbia di protezione per evitare cadute, contusioni, colpi, perché le emorragie più comuni avvengono a livello articolare dopo traumi. I farmaci finora in uso purtroppo hanno una emivita molto breve, costringendo il paziente a frequenti iniezioni, ma la ricerca per fortuna muove passi da gigante e che affetto ad emofilia può vedere semplificato l'accesso alle cure, con maggiore aderenza alle terapie e un miglioramento della qualità di vita. Forse l'unico neo di questi nuovi farmaci può essere il costo tenendo conto che il sistema sanitario nazionale è sempre in rosso. Professore, uno dei problemi delle cure per patologie molto invasive, patologie praticamente senza fine, è il costo. In questo caso c'è un costo per il sistema sanitario abbastanza elevato. Le nuove prospettive cosa dicono? I nuovi farmaci cosa dicono? E c'è il diritto ad essere curati comunque? Sì, sicuramente c'è il diritto ad essere curati. In realtà il costo di queste nuove terapie o il costo comunque della gestione dei soggetti emofilici va inquadrato all'interno della diffusione della malattia, della prevalenza e dell'incidenza della malattia. Nel senso che a livello del singolo individuo effettivamente il costo è molto elevato. Può sembrare anche esorbitante. Uno dei più elevati costi di malattia in letteratura è quello del nostro studio Cochise pubblicato su Blad nel 2003 in cui mediamente i pazienti costavano oltre 18 mila euro al mese. Però quando come denominatore mettevamo l'intera popolazione italiana l'investimento in salute era corrispondente a 70 centesimi per cittadino all'anno. Quindi diciamo meno di un caffè all'anno. Questo in generale. Ovviamente il punto successivo è comprendere che cosa otteniamo a fronte di questo tipo di investimento. Beh, negli ultimi vent'anni l'aspettativa e la qualità di vita, l'aspettativa di vita alla nascita e la qualità di vita dei pazienti emofili ci si è profondamente modificata. Quando io ho cominciato a fare le mie ricerche economiche in questo campo eravamo nel pieno del problema dell'AIDS. Nel senso che c'era un'intera generazione di pazienti che stavano morendo di AIDS proprio perché avevano fatto ricorso a trasfusione e all'utilizzo di plasma derivati contaminati. Questa situazione adesso è sostanzialmente cambiata. Un bambino che nasce oggi emofilico in questo paese ha praticamente la stessa aspettativa di vita alla nascita di un bambino non emofilico e si attende che crescerà normalmente con delle articolazioni normali nel momento in cui venga sottoposto a terapie adeguate. Lei ha parlato di articolazioni. Vogliamo, vuole spiegare perché è così importante che poi questa patologia venga ben curata? L'importanza arriva dal fatto che evitando i problemi alle articolazioni si evita sostanzialmente che il soggetto arrivato all'età adulta non abbia problemi tali da ridurlo in pratica su una sedia a rotelle o con dei grossi problemi di mobilità o dei problemi anche scolastici perché se l'articolazione target dei sanguinamenti è il gomito il gomito magari con il quale il bambino scrive può avere dei grossi problemi anche a scrivere quindi delle grosse limitazioni. Ora queste cose con le nuove terapie e con la possibilità di fare la profilassi dei sanguinamenti sono in via di estinzione. Tra l'altro il problema delle articolazioni oltre ad essere un problema limitante, disabilitante di salute è anche un problema economico perché nel lungo periodo i pazienti vanno incontro a degli interventi ortopedici di chirurgia ortopedica maggiore e in un emofilico un intervento del genere può arrivare a costare anche un milione di euro quindi investire all'inizio della vita del bambino per mantenere una funzionalità normale comporta anche risparmiare ed evitare degli eventi estremamente costosi più avanti nel tempo. Ecco professore, quando ci sono delle comorbidità con patologie anche gravi cosa succede? Sempre ritornando a quel primo studio che pubblicammo nel 2003 circa 6 soggetti su 7 erano uno studio con 50 pazienti l'85% dei pazienti avevano un'infezione da HCV HCV e HIV la coinfezione era la malattia concomitante più frequente proprio per i motivi che abbiamo detto prima ora per l'HIV erano nel frattempo state sviluppate alcune terapie che permettevano di tenere la malattia sotto controllo che adesso sono disponibili e che sono utilizzate oramai da oltre un decennio per l'HIV abbiamo invece le nuove terapie alle quali credo che i soggetti emofilici debbono avere accesso perché sarebbe curioso è stato calcolato che il costo totale dei fattori della coagulazione lungo la vita di un soggetto emofilico è superi 3 milioni di euro diciamo che buttare via tra virgolette un investimento che la nostra società ha fatto per mantenere la salute di questi soggetti per non dar loro una terapia che costa 15-20 mila euro con i contratti che sono stati fatti attualmente credo che non sarebbe un grande investimento Le grandi speranze per tutte le persone affette da patologie che le accompagnano purtroppo per tutta la vita patologie gravi e la ricerca, nuovi farmaci su questo fronte che speranze ci sono? Qui si parla di una patologia che riguarda la mancanza di uno dei fattori della coagulazione e viene chiamato emofilia dove se manca questa proteina il coagulo non viene formato e quindi sanguinamento e spontanei che iniziano da età proprio pediatrico I trattamenti finora disponibili sono le terapie sostitutive hanno un'emivita molto breve per cui un paziente quando sta sanguinando deve trattarsi almeno due volte al giorno e per prevenire il sanguinamento o fare i profilassi si deve trattare tre volte alla settimana e nel caso delle monfilia B le cose sono con una frequenza un po' minore però anche lì comunque sono associate con un'emivita corta del prodotto le cose stanno cambiando stanno cambiando su due aspetti primo perché i prodotti che stanno arrivando nel mercato hanno un'emivita più lunga e quindi con minor numero di infusioni si riesce ad avere una protezione maggiore e quindi i bambini saranno più protetti e poi arriveranno i farmaci del tutto normale che non hanno bisogno di sostituire il farmaco il prodotto che manca proprio bypassano questo aumentando la potenza della formazione del coagulo e fino alla terapia igienica dove in realtà si porta alla cura vera e propria della malattia quindi siamo in un'era da un certo punto di vista veramente meraviglioso perché riusciamo a vedere tanti prodotti nuovi e poi proprio in questo campo non è solo a parte che si inizia da età pediatrica ma non è solo la persona poi affetta da emofilia ma è tutta la famiglia che praticamente è coinvolta Questa è un'ottima osservazione da diversi punti di vista perché quando c'è una difficoltà ovviamente prima tutta la famiglia cerca di risolvere il problema del paziente però nello stesso tempo la madre, le sorelle, i fratelli tutti vivono questa situazione insieme e da questo punto di vista anche le terapie nuove sono veramente un'apertura perché anche le persone che hanno un'età più adulta tipo nonni, i padri quelli che non hanno avuto profilassi fino adesso secondo me è il momento di ricominciare questo e poi un grande aiuto deve essere fatto ovviamente alle donne alle donne portatrici e dargli tutto il supporto in modo di poter portare avanti con miglior risultato per i loro bambini e bisognerebbe rispettare per tutto il lavoro che stanno facendo queste donne Lei ha detto donne portatrici vogliamo ricordare perché ha fatto riferimento a questa cosa? Perché l'emofilia è una patologia che è legata al cromosoma X quindi le donne sono portatrice e gli uomini sono affetti e da questo punto di vista tipo un 30% di donne quando in realtà gli nasce il bambino loro non sanno perché non c'è una storia clinica nella famiglia e quindi per prima volta si trovano di avere un bambino emofilico ecco qui è fondamentale il supporto, la consulenza corretta dal punto di vista dell'educazione e poi togliere il senso di colpa nella donna che non deve sentirsi responsabile di questa patologia e qui il ruolo dell'associazione anche dei centri è fondamentale e tutti devono essere molto molto vicini a queste donne e cercare di dargli tutto l'aiuto che ha bisogno professore si sa quando ci sono patologie così gravi si perdono le speranze anche perché sono patologie che purtroppo pesano sull'individuo per tutta la vita ecco sono i farmaci le cure di solito sono costose talvolta invasive c'è qualche cosa di nuovo che può dare nuove speranze a questi ammalati? per quanto riguarda i pazienti affetti da emofilia che sono stati infettati cronicamente con il virus dell'epatite C attraverso la terapia sostitutiva oggi disponiamo di farmaci somministrati per via orale capaci di guarire tra il 95 e il 98% dei pazienti quindi più che di una novità si tratta di una vera rivoluzione nel campo della medicina la rivoluzione consta nel fatto che questi regimi terapeutici sono molto facili da somministrare sono molto tollerati non interferiscono con altre medicazioni che il paziente emofilico deve ricevere periodicamente ma soprattutto che sono sicuri ed efficaci anche in quei pazienti che sfortunatamente non hanno risposto bene a precedenti tentativi di cura dell'epatite C con i regimi a base di interferone che erano molto faticosi perché venivano somministrati per via parenterale richiedevano almeno sei mesi talvolta un anno di cura e spesso causavano effetti collaterali devastanti soprattutto nei pazienti con malattie di fegato più avanzata quindi noi eravamo in una situazione prigionieri di un paradigma i pazienti che avevano più bisogno di guarire dall'epatite C erano quelli che rispondevano di meno all'interferone o che non potevano affatto essere candidati alle cure oggi questo paradigma è stato sovvertito e come lei sa i pazienti con malattia epatica più avanzata già sono stati guariti dai trattamenti a base di farmaci anti-epatite C orale Allora da questo punto di vista l'Europa lavora unita per la ricerca per far fronte a una delle patologie che sono così invalidanti anche perché purtroppo sorgono appena in età pediatrica e bisogna convivere poi con questa patologia Sì esattamente l'emofilia è una malattia genetica e purtroppo come ha detto lei colpisce sin dall'inizio la fortuna dell'emofilia è che durante gli ultimi anni c'è stata una rivoluzione nel trattamento prima non esistevano cure ora c'è la possibilità di rimpiazzare ciò che manca il fattore ottavo questo ha rivoluzionato come può vedere dalle nuove generazioni lo stato fisico di queste persone migliore qualità di vita migliore aspettativa di vita ad ora però grazie a questa rete nazionale europea e mondiale di stimolo della ricerca e dell'innovazione e questo è stato anche in parte dovuto alle associazioni mondiali, europee, nazionali e regionali nell'emofilia a stimolare l'innovazione i pazienti e le persone con l'emofilia stanno avendo un cambiamento totale da trattamenti che prima erano legati alla quotidianità ora si passerà alla settimanalità e come lei può immaginare come dice un bambino di un anno a fargli una puntura endovena ogni 48 ore non è facilissimo il fatto di averlo una volta a settimana e per fortuna una volta al mese rivoluzionerà la qualità di vita del paziente ma soprattutto anche della famiglia ecco lei ha fatto riferimento alla famiglia perché la famiglia vive con questo paziente anzi proprio perché un bimbo lo deve accompagnare e talvolta si sente anche isolata ma lei parlava giustamente delle associazioni che aiutano al massimo assolutamente in ogni malattia penso soprattutto anche le genetiche ma ogni malattia in genere si pensa che la parte lesa è sempre la persona affetta posso assicurarle che la parte lesa molte volte in malattie genetiche è la famiglia le associazioni appunto principalmente nascono per una necessità molte volte le associazioni nascono da un familiare che ha più voglia più forza e prova a dare una mano principalmente al suo centro definiamo in questo caso la nemofilia ma da lì poi a tutta la comunità che ne può beneficiare e le associazioni hanno un ruolo chiave perché possono fare una sorta di pressione positiva sull'ospedale sui centri nemofilia e anche a livello politico per garantire sempre la miglior possibilità terapeutica bisogna avanzare altrimenti si ritorni indietro sui centri nemofilia sui centri nemofilia sui centri nemofilia sui centri nemofilia